Ciao mamme! In questa nuova lezione in italiano vedremo due cose. I mestieri, i lavori, ma anche il verbo fare. Vediamo insieme. Quando qualcuno chiede che lavoro fai, possiamo utilizzare due verbi, il verbo essere e il verbo fare. Vediamo degli esempi. Io sono infermiere, ma anche io faccio l'infermiere. Tu sei medico, ma anche tu fai il medico. Lei è avvocato, lei fa l'avvocato, lui è cassiere, lui fa il cassiere, noi siamo parrucchieri, noi facciamo i parrucchieri, voi siete maestre, noi facciamo le maestre, loro sono psicologhe, loro fanno le psicologhe. Vediamo altri esempi. Il cassiere lavora al supermercato, l'infermiere lavora in ospedale, l'avvocato difende le persone, la maestra insegna ai bambini, le psicologhe ascoltano le persone, il pescivendolo vende il pesce, il pasticcere prepara i dolci, il pompiere spegne il fuoco, il postino porta le lettere, il pediatra cura i bambini, la parrucchiera taglia i capelli, la hostess lavora in aereo. Vediamo adesso insieme il verbo fare. Impariamolo insieme. Io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Vediamo gli esempi. Io faccio sport da molti anni, tu fai la casalinga, lui o lei fa lezione d'italiano, noi facciamo una passeggiata sulla spiaggia, voi fate una torta al cioccolato, loro fanno la spesa dal fruttivendolo. Ci vediamo alla prossima lezione, mi raccomando, ripetete! Ciao!